In una città grande come questa deve per forza succedere qualcosa da qualche parte. Ehi Splint, perché non facciamo qualcosa? Ci addormentiamo così. Bongos, fatti venire un'idea. Perché non provate a spremervi il cervello? Tirala fuori tu un'idea. Sì, è una parola. Vediamo un po'. Chi fa quei colpi giù in città? Non lo so, si tratta di qualcuno che sa bene il fatto suo. Sveglia ragazzi, io sto parlando di quelli vestiti di nero. Gli angeli. Sbagliato. Questo è ciò che pensano tutti. Ehi, aspetta un momento, lo so. Lo so chi sono quelli che si vestono di nero. Cavolo, ho dimenticato a cosa pensavo. Fantastico. Avete tutti la nebbia in testa. E Billy Boy, ecco chi è. Chi? Billy Boy, è roba sua. È quello che gli piace, grandi progetti, cose pericolose. È anche un po' complicato.